Nel pomeriggio di domenica gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un 46enne del posto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato mentre usciva allo svincolo autostradale di Battipaglia proveniente da nord. Prontamente fermato dagli agenti è stato trovato in possesso di due confezioni in cellofan trasparente contenenti 11,6 grammi di cocaina abilmente occultate all'interno del risvolto sinistro dei pantaloncini di jeans. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Forni.